Il CT azzurro Blengini, l'Italia è uscita sconfitta con gli Stati Uniti, una partita iniziata in salita, poi si è cercato in tutte maniere di raddrizzarla, non ci sei riusciti completamente? No, siamo riusciti a stare di più nei set, dopo il primo set dove loro hanno fatto alcune cose meglio di noi, soprattutto la ricezione, abbiamo fatto molta fatica sia sulla ricezione della battuta in salto che sulla ricezione della battuta flotta, dopo è andata sistemando, si è andata molto meglio e questo ci ha consentito anche questo di stare di più attaccati nei punti, di prendere qualche punto di vantaggio, di giocare punto a punto fino al finale di set dove loro hanno avuto qualcosina in più, soprattutto nella capacità di difendere e contrattaccare e di essere più incisivi e spietati nelle occasioni che si creavano di contrattacco. Oggi si è visto una grossa differenza probabilmente dovuta alla differenza di lavoro fatta tra le due squadre? Questa americana è una squadra che è consolidata in questo gruppo oramai da almeno un paio d'anni e sta lavorando quotidianamente con questo gruppo e questo chiaramente è differente rispetto alla nostra situazione che invece la nostra, sappiamo bene, è una squadra che si è rinnovata, che si è ritrovata, che ha iniziato a lavorare insieme agli inizi di agosto però questo non è tutto il motivo della differenza che c'è stata soprattutto nel primo set della partita di oggi perché alcune cose non hanno funzionato anche individualmente e sappiamo che possono andare molto meglio però credo che la chiave principale sia stata proprio la loro qualità nel fare molto bene le cose anche quando noi le facevamo bene noi abbiamo avuto delle fasi in cui abbiamo servito bene e loro hanno continuato a tenere molto alta l'efficienza della loro ricezione per esempio e questo ha consentito al palleggiatore di essere molto imprevedibile, molto creativo e di mettere nelle condizioni ideali gli attaccanti e anche per quanto riguarda il muro di difesa in alcune situazioni dove noi avevamo attaccanti ben smarcati loro hanno fatto delle difese importanti riuscendo a tenere degli attacchi che normalmente vanno a punto e anche questo va a merito loro esattamente come la qualità delle ricezioni nei momenti in cui abbiamo servito molto bene grazie